Ehi ciao a tutti agento Bersiaki e Tommy finalmente per i mille iscritti con un leggerissimo metodo di un paio di giorni ma vi spieghiamo presto il perché. Innanzitutto ci vogliamo scusare perché nelle settimane passate abbiamo caricato pochi video ma è stato film di quadrimestre quindi siamo carichi di studio per la scuola e di più abbiamo avuto anche dei problemi di internet però non è una scusa magari fosse una scusa invece siamo veramente carichi di verifiche. Quindi però comunque la settimana prossima riusciranno fuori i video con regolarità quasi quotidianamente come abbiamo sempre fatto. Detto questo passiamo a farvi vedere i video dei due ragazzi che ci hanno mandato i loro video, li ringraziamo personalmente, sono Libertyman295 e Guseystar98. Metteremo anche i link dei loro canali in descrizione e i bottoni qua mentre faremo vedere i loro video. Non so dove li piaceremo. Probabilmente ce li schiafferò, uno in faccia a te e uno in faccia a me. Ok allora niente ringraziamo ancora questi ragazzi che ci hanno mandato i video. Ci aspettavamo un po' più di video comunque se vi spiace non riproporremo questa cosa magari più avanti perché ci siamo comunque un'idea carina e comunque i video sono veramente fantastici soprattutto. Diciamo che i video sono stati pochi però la qualità è stata una cosa eccellente ma adesso vedrete anche voi. Meglio pochi ma buoni. Quindi niente, abbiamo già noiato abbastanza, ecco due video e grazie ancora a Libertyman e Guseystar. Ciao! Ciao! Mandarini, 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 mandarini e struttura. Oddio!